Le trivelle danno una scossa alla maggioranza di Rocco Giuliano a Polla. Infatti, tre membri della sua maggioranza si sono assenuti durante l'ultimo consiglio comunale in merito al punto sulla ricerca di idrocarburi nel Vallo di Diano. Gli assessori Maria Citarella, Giuseppe Curcio e Gianni Corleto non si sono pronunciati sul punto in questione nonostante l'indirizzo del primo cittadino, più volte espresso anche pubblicamente. È passato il no alle trivellazioni, ma solo grazie alle convinzioni degli altri consiglieri di maggioranza e dei consiglieri di opposizione Raffaele Cammardella e Vanni Ritorto. Fortunato da Rista, altro consigliere di minoranza, ha ribadito la sua astensione sul punto come già fatto nelle precedenti occasioni. L'astensione dei tre assessori nasce, secondo quanto è emerso dal consiglio e dalla discussione, dal fatto che non ci sono tutti gli elementi, secondo quanto è espresso dagli assessori stessi, per valutare l'eventuale impatto delle ricerche di idrocarburi sul territorio e che le osservazioni di Ortolani sono le uniche sottoposte al consiglio da anni a questa parte. Una astensione quasi provocatoria quindi, ma che, stando a voce di corridoio, ha comunque creato qualche malumore nella maggioranza. Da aggiungere che il Comune di Polla, nei giorni scorsi, aveva inviato una lettera ai ministeri competenti come azione richiesta dalla comunità montana a Vallo di Diano, dicendo che il consiglio in toto era contrario alle trivellazioni.